La fase del riciclo è molto semplice. In questo caso abbiamo il PET, quindi semplici bottiglie di plastica. Inserisco la bottiglia, la macchina lavora. Al momento che il lavoro è finito, questo diventa verde, io premo il tasto e mi eroga un eco punto. Questo è l'eco compattatore incentivante installato per la prima volta in Toscana a Torrita di Siena da Apagrin, una virtuosa start-up nata da tre giovani erettini, Andrea, Paolo e Alessandro, che mira a migliorare e incentivare la raccolta differenziata e ridurre i rifiuti. Si parla di un ciclo che viene ridotto drasticamente, quindi un ciclo virtuoso. La bottiglietta che noi buttiamo nel cestino ha un costo, la bottiglietta che buttiamo nell'eco compattatore ha dei vantaggi abnormi per chiunque e soprattutto per l'ambiente perché si riduce di circa la metà tutto il ciclo per poi poterla riutilizzare e quindi i vantaggi sono evidenti. Nel nord Europa esistono da 25 anni, nel nord Italia una decina d'anni che esistono, da noi stentano ma diciamo che la mentalità, è quello che speriamo, però abbiamo visto che sta andando in una certa direzione. Quindi ci siamo messi sotto in una fase di studio di circa due anni, abbiamo contattato la casa madre. Dopo lunghe riunioni, progetti presentati e cose varie, siamo riusciti ad avere la concessione da loro per, in questo caso, la regione toscana. Noi vorremmo lavorare soprattutto con le amministrazioni pubbliche in modo tale che tutti i cittadini possano soffrire di queste tecnologie e i commercianti possano anche avere dei vantaggi a livello economico. In Toscana il primo eco compattatore è stato installato grazie ad un'iniziativa promossa dagli stessi commercianti della zona. Il macchinario è stato installato fuori dalla bottega sotto casa e una ventina di attività del paese offriranno sconti ai cittadini virtuosi attraverso gli eco bonus. Mi auguro che il commercio, questo qui nostro piccolo paese, sia incrementato perché le persone sono poi costrette, fra virgolette, a riscuotere gli eco punti o i bonus che gli diamo nei nostri negozi. E effettivamente si vede già il risultato perché ci sono già persone nuove che non sono mai venute, che vengono, spendono, anche più vendite, questo è importante.